E oggi come ospite al Giro d'Italia in farmacia abbiamo il dottor Roberto Capozza, tesoriere Agifar Bari, con lui parleremo di telecardiologia in farmacia. Buongiorno dottore, bentornato, benvenuto anzi a Colazione in farmacia. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei ovviamente per essere qui con noi oggi. Dunque, partiamo da qui. Cos'è esattamente la telecardiologia in farmacia? In cosa consiste? Allora, ecco, la telecardiologia altro non è che una delle applicazioni più diffuse della telemedicina e secondo il Ministero della Salute costituisce una nuova metodica dell'esercizio della professione medica più che una innovazione vera e propria dell'esercizio medico. Cioè per telemedicina intendiamo il trasferimento di un segnale biologico per via telematica ad un preciso, ad uno studio specialistico che poi in tempo reale va a mettere un referto e ad offrire comunque un consulto medico. La telecardiologia nello specifico si occupa proprio degli esami per quelle prestazioni di tipo cardiologico. Nella pratica consiste nell'effettuare elettrocardiogrammi, ECG dinamico secondo oltre, ovvero l'oltre cardiaco, oppure anche oltre tessori, tutto per via telematica. E attualmente questo tipo di prestazioni possono essere anche svolte in farmacia. Con il decreto del 16 dicembre 2010 si è reso possibile effettuare i servizi di secondo livello direttamente in farmacia. La farmacia quello che fa effetto è un servizio tramite degli enti o comunque delle società private che sono accreditate dalla regione e che seguono comunque delle linee guida validate dal ministero. I farmacisti poi, nello specifico, vanno ad acquisire una preparazione tale per poter utilizzare gli strumenti ed effettuare le registrazioni direttamente in farmacia. E queste società, attraverso una centrale di telecardiologia che è presidiata da un'equipe di cardiologi, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, diciamo che sono pronti a ricevere, analizzare e recortare in qualsiasi momento un elettrocardiogramma. Quindi un farmacista anche magari durante un turno e un turno potrebbe tranquillamente svolgere l'effettuare un elettrocardiogramma a un soggetto che lo richiede, grazie proprio a questa presenta 24 ore su 24 di questi centri cardiologici. Poi nella pratica, ecco, l'elettrocardiogramma, cioè in cosa consiste? L'elettrocardiogramma è utile sia in prevenzione primaria, per tutti quegli operanti a rischio che possono essere diabetici, pertesi, lipidemici, ma anche come screening in soggetti sani. Per esempio oggi vengono effettuati in molti elettrocardiogrammi in farmacia in soggetti sani che devono svolgere pratica sportiva, quindi anche per un'iscrizione in palestra o comunque per svolgere attività sportiva e per avere dal medico essere rilasciato il certificato di buona salute. O comunque un elettrocardiogramma viene effettuato quando c'è magari un dolore di una sospetta natura magari anginosa, per esempio un dolore toracico, un dolore al braccio, oppure magari un malessere generale, un vertigine, nausea, insomma per situazioni che devono essere indagate e studiate meglio. Studiate ovviamente per rendersi conto della condizione di salute degli utenti della farmacia. Tra l'altro poi dopo parleremo anche di una storia che ho ricordato anche giovedì scorso quando siamo stati in collegamento con il dottor Achille Gallinatowski, una storia di cronaca che avevamo anche trattato durante la nostra rassegna stampa di settore che fa capire quanto possa essere importante ovviamente il ruolo delle farmacie anche per quanto riguarda la telecardiologia in generale e la telemedicina. Poi oggi parliamo nello specifico di telecardiologia. Dottor Capozza, ma quindi sono esami che sono sovrapponibili perfettamente a quelli che si possono sostenere in ospedale? Cioè sono assolutamente identici? Io lo chiedo perché molte volte, forse poche persone sanno di poter sostenere questi esami in farmacie e magari pensano che siano diversi rispetto a quelli dell'ospedale. Invece no, giusto? No, assolutamente. Sono esattamente identici a quelli dell'ospedale. Cioè nello specifico per esempio l'elettrocardiogramma viene registrato utilizzando un elettrocardiografo portatile che è capace di registrare un tracciato chiamato standard a 12 derivazioni che è effettuato normalmente in ospedale. Nella pratica l'apparecchio viene posizionato sul torace all'altezza del cuore del paziente, si applicano degli elettrodi, avviene la registrazione del tracciato e poi viene inviata telematicamente grazie all'emissione di un segnale acustico dall'apparecchio, viene inviata alla centrale cardiologica dove viene poi tradotta e visualizzata graficamente, lì poi uno specialista, un cardiologo, perché è sempre il cardiologo che potrà poi risaltare un elettrocardiogramma. E chiaramente l'elettrocardiogramma è pari a quello fatto in farmacia, tra l'altro dispositivo medico di classe 2A, quindi uno strumento comunque conforme qualitativamente agli standard. Stesso discorso per l'oltre cardiaco e l'oltre tessorio, perché in questo caso l'oltre cardiaco è esattamente lo stesso che viene utilizzato in ospedale e qui abbiamo una registrazione di 24 ore o 48 ore del tracciato. In questo caso poi lo strumento viene inviato direttamente insieme in centrale dove poi un cardiologo potrà prendere in esame tutto il tracciato, elaborarlo e fare il referto. Quindi assolutamente sì, sono totalmente identici. Certo. E il ruolo del farmacista qual è durante questi esami, quando si sostengono questi esami esattamente cosa fa il farmacista? Qual è il suo ruolo? Beh, innanzitutto dopo che è stato inviato il referto, il cardiologo prima di refertare parla direttamente con il farmacista, quindi comunica il risultato per via telefonica. Quindi noi in automatico già sappiamo la situazione. Poi il cardiologo andrà a refertare e a inviare in una piattaforma web, più delle volte magari per email o per fax, il referto che viene direttamente stampato in farmacia e dato al paziente. In questo caso poi il farmacista potrà aiutare o meno a leggere a seconda dei casi il risultato. In fine volte parliamo di un elettrocardiogramma a norma, cioè secondo comunque di uno stato normale. A volte però può capitare che il cardiologo indiritti il paziente verso o il medico curante o un altro cardiologo nella zona o anche più raramente verso il pronto soccorso. Può capitare. Nei casi più gravi magari questo? Nei casi più gravi, sì. Magari quando c'è una patologia in atto che può essere una fibrillazione triale, di nuova insorgenza, un infarto o comunque delle tachicardie eccessive che necessitano di un recovery urgente. In quel caso è proprio lo stesso centro cardiologico che a volte può anche chiamare il pronto soccorso, il 118 o indirizzare il paziente al pronto soccorso. Dicevo che il ruolo del farmacista o comunque della farmacia di servizio è un ruolo fondamentale perché assicura una promozione attiva della salute sotto forma di prevenzione della malattia cardiovascolare. Consideriamo che soltanto l'anno scorso in Calabria si sono contati fino a 7.000 prestazioni tra elettrocardiogrammi e Holter. Quindi il ruolo del farmacista è un ruolo fondamentale di prevenzione, soprattutto perché poi c'è un rapporto diretto con il paziente, un rapporto anche a volte di fiducia. Il farmacista conosce bene la situazione clinica e sa in che caso, in che momento può esserci un problema. A volte basta anche una semplice misurazione della pressione per fare magari anche la comunicazione di qualche sintomo particolare da parte del paziente che venendo in farmacia dice di avvertire magari un dolore a petto o comunque dei soffi o comunque una mancata del respiro. Certo. I campanelli di allarme che spingono poi il farmacista a consigliare di effettuare l'esame. E io credo che sia anche importante il ruolo cardine che svolge il farmacista tra il paziente o l'utente della farmacia e anche il cardiologo perché come come ha detto lei comunque il farmacista ha stretto contatto anche con il cardiologo tant'è che poi viene stampato il referto dal farmacista e lo spiega all'utente. Quindi c'è questo ruolo di cardine tra lo specialista e l'utente del farmacista che giustamente essendo un presidio territoriale è di estrema importanza. Dottor Capozza in ultimo io ricordo brevemente perché l'ho già detto un paio di volte ho già letto questa notizia un paio di volte ai nostri ascoltatori però giusto per rinfrescare la memoria. Nelle Marche in provincia di Ascoli Piceno qualche settimana fa una donna è praticamente stata come dire salvata da un infarto in corso grazie all'elettrocardiogramma che è stato sostenuto in farmacia. Lei in pratica era andata dal dottore con la propria con la propria figlia. Il dottore aveva aveva lamentato ovviamente la donna un dolore evidentemente al petto, il dottore aveva prescritto un elettrocardiogramma, l'ospedale l'aveva fissato a un mese di distanza e alla fine la donna è andata a fare l'elettrocardiogramma in farmacia e è stato scoperto appunto questo infarto in corso. Quindi chiaramente capiamo quanto sia importante il ruolo del farmacista anche da una storia come questa. Però le chiedo è capitato anche a lei qualcosa di simile, qualcosa del genere? Le è capitato di fare questi esami in farmacia e cosa ha scoperto in alcuni casi? Beh sì, ci sono stati comunque vari casi di situazioni prese per tempo dove il paziente principalmente antiano, entrando magari semplicemente per iniziare la pressione, aveva avvertito un dolore toracico, comunque un battito cardiaco irregolare. In questo caso più delle volte si è consigliato di fare l'elettrocardiogramma e si è poi riscontrata una fibrillazione acriale in atto, ci è capitato proprio di alcuni pazienti che avevano delle fibrillazioni di nuova insorgenza, quindi il cardiologo d'urgenza ha consigliato il ricovero immediato, una volta è stato chiamato il 118, un'altra volta semplicemente è stato consigliato di recarsi in pronto soccorso e tra l'altro il possesso di un reperto, diretto cardiogramma fatto con telecardiologia in farmacia, più delle volte consente proprio ai malati di entrare agevolmente in quanto soccorso, di urgenza, senza dover fare l'IC, senza dover aspettare, quindi comunque l'urgenza. In certi casi poi il paziente, un caso è stato dimesso subito il giorno stesso, un altro caso poi c'è capitato che il paziente fosse stato dimesso dopo tanto tempo, dopo qualche giorno, con una terapia totalmente cambiata, con una giunta per esempio di un antiaritmico, comunque c'è sempre stata la certezza anche da parte dei professionisti ospedalieri dell'assoluta importanza che un semplice elettrocardiogramma in farmacia può avere proprio per salvare anche Assolutamente, credo che sia importante anche specificarlo, fare sempre di più comunicazione e informazione per farlo sapere anche ai cittadini, perché molte volte magari i cittadini non credono di poter sostenere questi esami in farmacia, ma è ovviamente una prestazione che può essere di estrema importanza. Io penso soprattutto alle persone anziane che magari non riescono a recarsi all'ospedale vivendo magari a 10, 15, 20 o anche più chilometri, hanno una farmacia invece dietro l'angolo, sotto casa, che può effettuare questo tipo di servizi. Le persone anziane oppure chi vive nei piccoli centri, nei piccoli borghi, di montagna, quindi è sicuramente qualcosa che va sempre di più comunicato e che innanzitutto fortunatamente esiste. Poi va sempre di più comunicato perché è una marcia in più per la nostra salute e il nostro benessere, almeno questa è la mia opinione, ma credo che sia anche condivisa, immagino, da lei. Assolutamente sì, la farmacia come unico presidio sanitario è presente in modo capillare sul territorio e al quale si può assolutamente affidare un ruolo del genere, soprattutto considerando l'aumento dell'età media, l'incremento dei costi per l'assistenza sanitaria e anche l'esigenza di contenere un po' le spese sanitarie. Siamo il secondo paese più anziano al mondo dopo il Giappone e quindi dobbiamo anche fornire certi servizi per i nostri nonni, per le nostre persone più anziane, giustamente come è logico che sia. Dottor Capozza, è stato veramente un piacere averla con noi oggi a colazione in farmacia, ha spiegato perfettamente questa novità che è presente dal 2010, come ci ha ricordato prima e speriamo che sempre più persone sappiano ovviamente che questi servizi sono disponibili anche in farmacia. Io le auguro una buona giornata e a risentirci presto, grazie. Grazie mille, buona giornata a voi e è stato un piacere anche per me, grazie. Grazie.